Cosa significa NIMAX Coding Excellence? NIMAX Coding Excellence significa l'importanza del processo all'interno della marcatura. Quest'anno in fiera presentiamo il processo più che il prodotto. La vendita per NIMAX passa attraverso l'analisi delle linee dei processi produttivi del cliente, la mappatura delle referenze che il cliente deve marcare nella propria produzione, la qualifica dei materiali, il posizionamento e la tipologia di codice che deve essere stampato. Faccio presente che nel mercato farmaceutico, che è un mercato altamente normato, la qualità del codice non è un nice to have ma è un must, in quanto il codice stampato deve essere di grado dal C in su. NIMAX con il proprio Test Lab è in grado di certificare questo grado di codifiche, e di mettere a disposizione dei propri clienti il certificato. La parola chiave in ambito farmaceutico è serializzazione. Tutti i marcatori domino commercializzati da NIMAX sono in grado di gestire la serializzazione del codice. Le stampanti della serie V sono stampanti a trasferimento termico che stampano su imballo flessibile e sono altamente diffuse nel mercato. Aggregazione è l'altra parola chiave nel mercato farmaceutico. Dal codice serializzato sul singolo prodotto si passa i codici aggregati per gli imballi secondari e i pallet. Fondamentale è anche la possibilità della Domino serie M di stampare etichette ad angolo per la sicurezza del prodotto. Le stampanti Thermal Inject sono le stampanti maggiormente diffuse in ambito farmaceutico. Quello che distingue la serie G della Domino dalle altre macchine concorrenti è il fatto che Domino è l'unico produttore di codificatori che produce anche gli inchiostri. Gli inchiostri della Domino serie G sono pensati apposta per il mercato farmaceutico, hanno un elevato contrasto e una durata nel tempo maggiore a quella comunemente trovata sul mercato. I marcatori Domino della serie D sono i più diffusi nell'ambito farmaceutico grazie alle loro prestazioni e le lunghezze d'onda specifiche per la tipologia di cartone utilizzato nell'astuccio. Sono in grado di marcare codifiche in classe A e sono tutti compliant con il CFR21 Part 11. NIMAX non è solo codifiche e marcatura, NIMAX è una business unit che si occupa anche di ispezione e controllo. Ovviamente il mercato farmaceutico necessita di controllare i propri prodotti lo può fare attraverso sistemi metal detector a raggi X o selezionatrici ponderali. Grazie alla tecnologia a raggi X è possibile non solamente rilevare contaminazioni di metalli o altri materiali plastici o ferrosi ma è anche possibile vedere l'uniformità, la conformità della scatola dell'astuccio di medicina in questo caso. È possibile verificare che nel blister sia presente tutte le capsule. Grazie a tutti.